Il Cid Campeador, una figura leggendaria della Reconquista Spagnola. Rodrigo Diaz de Vivar, meglio conosciuto come il Cid Campeador, è una delle figure più importanti della storia spagnola. Nobile Castigliano, guerriero e figura leggendaria della Reconquista, fu signore di Valencia dal 1094 fino all'anno della sua morte. Nato a Vivar, vicino a Burgos, intorno al 1040, il Cid iniziò la sua carriera militare al servizio del Re Alfonso VI di Castiglia. Si distinse rapidamente per le sue abilità e il suo coraggio, e presto divenne uno dei comandanti più apprezzati del Re. Nel 1072, il Cid fu esiliato dalla Castiglia dopo essere stato accusato di aver cospirato contro il Re. Si rifugiò nel regno di Saragozza, dove servì il Re musulmano al Muqtadir. Il Cid guidò l'esercito saraceno in numerose vittorie contro i cristiani, guadagnandosi il rispetto e la stima di entrambi i musulmani e i cristiani. Nel 1081, il Cid si mise al servizio del Re Alfonso VI, che gli aveva concesso il perdono. Il Cid guidò l'esercito cristiano in numerose vittorie contro i musulmani, e contribuì a riconquistare numerose città e territori per la Castiglia. Nel 1094, il Cid conquistò la città di Valencia, che divenne il suo nuovo dominio. Il Cid governò Valencia con saggezza e giustizia, e la città prosperò sotto il suo regno. Il Cid morì a Valencia nel 1099. Fu un grande leader militare e un uomo di grande onore e integrità. La sua figura è ancora oggi una fonte di ispirazione per gli spagnoli. Il Cantar de Mio Cid La storia di Il Cid è stata raccontata in numerose opere letterarie, ma la più famosa è Il Cantar de Mio Cid, un poema epico del XII secolo. Il poema racconta le gesta di Il Cid, dal suo esilio dal regno di Castiglia fino alla sua morte a Valencia. Il Cantar de Mio Cid è considerato uno dei capolavori della letteratura spagnola. L'eredità di Il Cid Il Cid è una figura leggendaria che ha avuto un profondo impatto sulla storia e sulla cultura spagnola. È considerato un simbolo della reconquista, e la sua storia è stata raccontata e tramandata per secoli. Il Cid è un eroe nazionale spagnolo, e la sua figura continua a ispirare e affascinare le persone di tutto il mondo. Il Cid nella cultura popolare La figura di Il Cid è stata rappresentata in numerose opere di cultura popolare, tra cui film, serie televisive, opere teatrali e opere musicali. Una delle rappresentazioni più famose di Il Cid è quella del film del 1961 Il Cid, diretto da Anthony Mann e interpretato da Charlton Heston. Il film è stato un successo di critica e di pubblico, e ha contribuito a rendere Il Cid una figura ancora più popolare. Il Cid è una figura complessa e affascinante, che ha lasciato un segno indelebile nella storia e nella cultura spagnola. La sua storia è una storia di coraggio, di onore e di determinazione, e continua a ispirare e affascinare le persone di tutto il mondo.